Ciao e benvenuto in questo nuovo video! Oggi scopriremo insieme le caratteristiche di una razza popolare e dolce come il Volpino di Pomerania. Prima di iniziare però ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like. In questo modo aiuterai il canale a crescere e te ne saremo davvero grati! Di origine tedesca il Volpino di Pomerania è una delle razze più maggiormente diffusa negli Stati Uniti d'America. La sua fama è cresciuta talmente tanto da renderlo un cane da borsetta ed essere scelto da tantissime star hollywoodiane. La sua altezza media varia tra i 18 e i 24 centimetri mentre il peso invece varia tra i 1,5 e i 5 chili sia negli esemplari maschi che in quelli delle femmine. Un aspetto sicuramente rilevante di questa razza oltre alle sue dimensioni davvero piccole è sicuramente il suo manto talmente voluminoso al punto di ricordare una nuvola. Il suo carattere è molto docile e affettuoso ama socializzare e stare a contatto con le persone. Con gli estranei non si presenta aggressivo anche se va tenuto in considerazione che svolge molto bene anche il ruolo di cane da guardia ed è sempre pronto a difendere il proprio territorio e la sua famiglia. Infatti in prima battuta si troverà spesso ad abbaiare di continuo e a scrutare con fare diffidente la persona sconosciuta che si trova davanti. Questa razza è molto legata al suo padrone che vede proprio come un punto di riferimento nella sua vita. Tuttavia è opportuno sottolineare che non è particolarmente consigliata in caso di presenza di bambini. Infatti con i più piccoli non sembra essere molto docile, sarà opportuno effettuare prima una sana e ferrea educazione cinofila. Questo suo atteggiamento potrebbe essere scaturito dal forte attaccamento che nutre nei confronti del suo il quale è quasi morboso. Si mostra infatti molto geloso e non sopporta eventuali intromissioni nel rapporto. È un cane che si adatta benissimo alla vita di appartamento quindi se la tua casa ha degli spazi non immensi non ti preoccupare il volpino di pomerania riuscirà tranquillamente ad adattarsi e a trovare la propria dimensione. Per quanto riguarda la sua salute necessita di cure semplici e di un controllo periodico dal veterinario. Inoltre sarà opportuno prestare attenzione al suo pelo in modo da spazzolarlo frequentemente e all'alimentazione evitando di incorrere in situazioni di obesità. Nel video di oggi hai scoperto le caratteristiche e qualche curiosità su una razza davvero affettuosa e dal gran coraggio come quella del volpino di pomerania. Prima di scegliere il tuo amico quattro zampe vi invitiamo caldamente ad informarvi sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se questo video ti è piaciuto ricordati di iscriverti al canale e commenta questo video scrivendo la prossima razza che vorresti vedere. Saremmo felici di pubblicare altri video sull'argomento. Per oggi è tutto, se hai imparato qualcosa di nuovo e ti è piaciuto questo video lascia un bel mi piace per supportare il canale, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato per le prossime pubblicazioni. Da Mondocani è tutto, ci vediamo nel prossimo episodio, ciao!